Tornano a grande richiesta le visite guidate all'interno dell'ex ospedale psichiatrico di Maggiano. La fondazione Tobino ha deciso di inserire una data straordinaria, domenica 18 novembre, per permettere a tutti di ammirare l'intera struttura. La visita prevede un percorso esterno del complesso dell'ex psichiatrico e un percorso interno nelle zone agibili dell'ex manicomio, dal giardino della direzione al chiostro del Pozzo, i chiostri della divisione femminile e maschile, la chiesa, la camerata, le cucine, la sala pittura e la sala radiologica. Una guida esperta consentirà ai visitatori di ripercorrere le fasi del complesso, dalle origini al suo sviluppo, a cavallo tra il diciottesimo e il ventesimo secolo. La visita dura tre ore e prosegue poi all'interno della Casa Medici, sede della fondazione, dove è allestito un museo che ospita parte della strumentazione medico-scientifica utilizzata durante gli anni di funzionamento. Infine i visitatori accederanno alle suggestive stanzette del medico scrittore Mario Tobino, che ha vissuto all'interno della struttura per oltre 40 anni. La prenotazione è obbligatoria e va fatta telefonando allo 0583 32 72 43.